Ciao a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo video, sono Edoardo Cari, oggi ovviamente siamo nel secondo vlog a mezzanotte e quaranta, sono l'una e quaranta, ci sarà luce come la classe di oggi, la luce, però questo video che durerà brevemente sarà così. Allora, le news, prima del 31 ottobre uscirà un speciale 31 ottobre Halloween, un video da The Film Horror con gli amici, usciranno su questo canale, spero, spero, dico spero, sul Gp988, che c'è? Ehi, ho morso, quindi, quella è brava, su? Grazie, effettivamente la vedi pure, allora, ho acceso la luce, finalmente, e dicevo, questo video uscirà domani, insomma, è meno uno e quaranta, parlo pieno, parlo normalmente, Ehm, che c'è? Ehm, vuoi smettere sto coda? Vuoi smettere? Ehm, vabbè, lascio mostrare, questo video sarà corto, come quell'altro, ho fatto relati a due minuti, a qualcosa, e poi domani c'è anche scuola. Come sono venuti con sindicari? Che c'è il cucciolaccio? Che c'è? Cucciolatone? Che c'è? Cucciolatone? Che c'è? Che c'è? Ma caglietti la mannina! Cucciolatone? Che c'è? Che fai? Che fai con la mano? Cosa fai? Che c'è? Che c'è? Perché c'è il cellulare? Ma sai che non si fa? Quindi non tocciamo il cellulare? Ehm, piccolina è stanca oggi. Vero? Allora ragazzi, per questo video è tutto. Ehm, potete, durava due minuti e... Aspetta... E... 30. La Cindy, questo, il rompiamo, cazzo, si è girata di spalle, è troppo swag. Ooooooooh, ta-ra-ra. Ta-dam, ta-ta-ta, snoop-da, snoop-da. Comunque ragazzi, lasciate un bel like. Questa volta non ho tre like, porca miseria, non voglio svegliarvi un'altra volta. Questa volta ha quattro like, ha quattro like. Un altro video. Ah, tardi. Questa volta ha le due, questa volta ha le due. Mi manca, ho, faccio lo speciale... Ah, vlog, vlog è tardi, no? Quando arriveremo, tra altri... Tra tre? Tra un senato a quattro, farò, 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 all'alba, farò, all'alba, farò... La Sindina vi saluta. Noi ci vediamo al prossimo video. Tre minuti, tre minuti e trenta o astrano, ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi! Noi ci vediamo al prossimo video. Guarda, 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 guarda... Può gustare questo video.